Ciao a tutti! Allora, quella dell'invasione extraterrestre è forse la tematica che più interessa alla popolazione mondiale, soprattutto nell'ultimo periodo. Tante infatti sono le persone che cominciano a porsi diversi quesiti, come per esempio quando accadrà, come sarà, quali intenzioni avranno questi visitatori nei confronti della popolazione mondiale. Insomma, sarà capitato a tutti di farsi questo tipo di domande, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi mesi. Bene, e se io vi dicessi che un'invasione extraterrestre c'è già stata sulla Terra? Oggi vi terrò compagnia sul secondo canale con una storia davvero interessante, inquietante e anche drammatica. E perché vi dico drammatica? Perché parleremo di un'invasione extraterrestre e di un contatto diretto tra gli umani e questi oggetti volanti non identificati. Parleremo di persone che sono rimaste ferite e di alcune che invece sono addirittura morte. Ci sono tantissimi documenti che provano quello che è accaduto. Non voglio spoilerarvi nulla, però davvero vi dico ci sono tante prove fotografiche, tanti documenti. C'è addirittura un'operazione segreta che comunque si è occupata di questo. E poi appunto i documenti, tutto quello che sono riusciti a raccogliere è stato in qualche modo divulgato, anche se ovviamente non tutto. Infatti alcune prove fotografiche sono state anche levate dal web, non si riescono a trovare più. Ed è proprio questo quello che accade. Non trovate? Ogni volta che accade un episodio di questo genere, ogni volta che si parla di UFO, alieni, c'è sempre qualcuno che ha la voglia di insabbiare il tutto. Forse perché la popolazione mondiale non è pronta, forse perché hanno da nascondere qualcosa di molto molto importante, anche agghiacciante, che se venisse fuori potrebbe comunque portare la popolazione mondiale a porsi altri quesiti su quelle che sono molto spesso, le associazioni governative eccetera eccetera. Anche in questo caso, per quanto mi riguarda, si può parlare di insabbiamento. E trovo tutto questo molto irrispettoso nei confronti delle persone che hanno perso addirittura la vita. Oggi, attraverso un mini documentario da me interamente realizzato, vi parlerò di questa invasione extraterrestre che ha avuto luogo nel 77, ma non vi dico dove. Se siete interessati, se non siete ancora iscritti al secondo canale e se ci tenete a farlo, vi ricordo che vi lascerò il link giù nella info o comunque nel primo commento sotto al video. Quindi sarà molto molto facile. Vi basterà cliccare sul link e sostenermi anche lì. Per me è molto importante il vostro sostegno, la vostra energia, la vostra presenza, i vostri commenti, i vostri pensieri e pareri. E quindi che dirvi? Vi aspetto con questa storia super interessante e ovviamente attendo anche di leggere quelli che saranno i vostri commenti. Vi mando un abbraccio, un bacione. Per il momento vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo tra pochissime ore. Un bacione e ricordatevi che vi voglio tanto, tanto bene.